Avrà sostanzialmente Casa Mantegazza una parte di alloggi fino a 12 posti in tre mini appartamenti prevalentemente destinati a una presenza maschile, femminile e uno a riguardo della famiglia con attenzione ai minori per accoglienze a breve e medio termine in una funzione di supplenza o di prima accoglienza secondo le varie necessità. Gli è poi legato questo aspetto della parte di alloggio anche una mensa autogestita con una cucina in una sala e con un deposito dove le persone ospite potranno provvedere anche a mangiare e all'accoglienza di urna delle stesse. La seconda grossa parte dell'intervento riguarda quella che si chiama la mensa di distribuzione e qui il ruolo di questi decenni svolto dalla conferenza San Vincenzo è un ruolo importante che continua in collaborazione anche con le nuove forme e i progetti diocesani di sostegno alimentare alle famiglie in necessità. In questo progetto prevede oltre alla ristrutturazione dell'immobile ai servizi ai più poveri anche un programma di formazione, di gestione, di coinvolgimento di tutti e dei giovani attraverso per il momento un'assunzione temporanea di un collaboratore, Filippo Ardizi, che sarà proprio una figura all'interno del progetto di Casa Mantegazza finanziato dall'otto per mille della Chiesa Cattolica, sappiamo dove vanno i nostri contributi e aperto al contributo di tutto il territorio. L'obiettivo di questo progetto, Casa Mantegazza, è quello di superare il vecchio modo di fare carità e quindi la distribuzione di beni materiali ma creare dei veri progetti individuali con le persone bisognose in modo da aiutarle a uscire dalla condizione di povertà. Per fare questo è importantissima la creazione di una rete con sia enti e associazioni che operano nel sociale in modo da aiutarsi reciprocamente e appunto raggiungere un obiettivo comune. Altro obiettivo di questo progetto è il coinvolgimento e la crescita di volontari soprattutto cercando di coinvolgere i giovani che dovranno appunto aiutare, collaborare se possibile a raggiungere appunto questo obiettivo. Sempre per raggiungere il nostro obiettivo verranno fatti dei corsi di aggiornamento, dei corsi di formazione e stipulati accordi per tirocini appunto per l'inserimento al lavoro delle persone più bisognose.